ciao ragazzi del vostro cataldo pugliese proseguiamo la cavalcata verso russia 2018 oggi parliamo del belgio il belgio allenato da roberto martinez ragazzi e la formazione del belgio la formazione del belgio è la seguente courtois importa l'avete in sovrimpressione courtois importa vertongen vermalen alderwield e denaier in difesa naim golan witzel ederazard carrasco e de bruyne a centrocampo a supporto di lukaku una formazione molto forte il belgio è un outsider vi voglio soltanto ricordare come è arrivato a questo mondiale il belgio ha ottenuto 28 punti nel suo girone il girone h delle qualificazioni europee per il mondiale la seconda è stata la grecia 19 punti quindi ha massacrato il proprio girone questo era ragazzi il belgio proseguiamo con il brasile ragazzi e beh diciamo che è stata come la favorita siamo arrivati avevo promesso nell'altro video che quando arriveremo a quelle squadre io dirò la quale è la mia favorita io ragazzi il brasile lo metto un centimetro proprio dietro alla germania i bookmakers e i vari danno il brasile leggermente avanti alla germania io inverto queste due posizioni comunque sicuramente una delle due si giocheranno alla vittoria del titolo secondo la mia modesta opinione vediamo al brasile dunque abbiamo detto il brasile che partirà molto probabilmente con questa formazione ragazzi con raffaele tra i pali danilo marchino stiago silva e marcello in difesa casemiro david luiz oscar lucas e neymar la stella con gabriel in attacco allora ragazzi il brasile sicuramente se lo giocherà il mondiale vedremo cosa riusciranno a fare i verde oro ciao ragazzi arrivederci al prossimo video